DJ chiama Italia, DJ chiama Italia John Legend su Radio DJ specializzato ormai in canzoni complici John Legend è perfetto per farvi compagnia in quei momenti lì non disturba, il volume è basso, lui è anche un bravo ragasso si, è l'erede di quello che cantava, non so chi sia è l'ora dell'amore il famoso vibrato di Tonino dei Camaleonti è l'ora dell'amore, quando c'è John Legend è l'ora dell'amore benissimo, 10.36 Radio DJ, torna alla normalità DJ chiama Italia insieme fino a mezzogiorno, in diretta anche su All Music indifferente a questa sera su DJ TV ieri mattina abbiamo chiuso lasciando un grande punto interrogativo nella testa degli ascoltatori perché siamo tutti un po' curiosi al di là di censurare magari il comportamento sentimentale della nostra amica Giulia, sono fatti suoi fondamentalmente però insomma ci ha attizzato con questa cosa si, cosa è successo? Abbiamo dato il premio fedeltà a un infedele, a un infedele da 20 anni a una ascoltatrice più o meno quarantenne di origine latina americana che ci ha raccontato che nonostante fosse sposata da tanti anni felicemente da 20 anni manteneva una relazione con un uomo legato al mondo del calcio che vive in America Latina si, è da 20 anni che me la trombo insomma, è un segreto non preguntate, non preguntate ci hanno mandato tutti i cognomi di tutti i giocatori del mondo praticamente almeno conosciuti non è uno di quelli lì no, no, è su un nome famoso è un cognome abbastanza frequente ma non è nemmeno quello lì non lo conoscete tu lo conoscevi? no, se non lo conosco io non lo conosce nessuno sai che ho questa visione così democratica linuscentrica del mondo no, realmente non è uno molto conosciuto nel nostro paese bene, c'è un altro interrogativo che dobbiamo porci da questa mattina qui veramente indizi non ve ne diamo perché non vorremmo essere denunciati ma c'è una notizia clamorosa che è arrivata sui quotidiani questa mattina perché poi sui giornali tu trovi non so, le notizie quelle più importanti quelle serie l'America che non vuole dare l'estradizione come no? per l'assassino di Calipa non la darà mai, figurati figurati no il 17enne che a questo punto sembra sia stato l'assassino della gente a Catania i nuovi provvedimenti i nuovi provvedimenti Nanni Moretti che si prepara da suo socio che da Pappagallo, esatto però la cosa che veramente farà parlare di sé di più in queste ore qual è che in Germania un tedesco, amico di italiani ha ricevuto da appunto amici italiani un pacchetto contenente generi alimentari si fa, no? voi che avete e come no? a casa mia arrivavano le soppressate lo scatolo lo scatolo arriva lo scatolo con dentro un po' di tutto fichi quelli lì fichi quelli lì con le mani con dentro la mandorla come no? come no? poi c'erano quelli i cartadet i cartadet te l'abbiamo già parlato i taralli i taralli un sacco di roba salari così e i dolciumi cioccolato sì cioccolato bene a questo signore il signore vi dico anche il nome perché non è mica una bufala questa il signor Pasquale Amitrano non c'è il nome molto bello questa mia sicurezza comunque un uovo di 28 anni sì residente a Bischofsteim nell'ovest del paese sì è la reincarnazione tedesca di Bischeglie Bischofsteim nel pacco c'era una tavoletta di cioccolato cioccolato fatto in Italia cioccolato fondente attenzione con nocciole intere che buono con nocciole intere che senti quello scrocchio sotto i denti buonissimo consumando questa barretta di cioccolato qual è stata la sorpresa di questo signore tedesco nel trovare un dito umano un dito? un dito di una mano un dito di una mano un dito di una mano ma non era un avvertimento no 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 la polizia ha fatto le sue indagini e hanno appurato che realmente trattasi della prima falange di un dito umano ripeto e adesso l'interrogativo è quale fosse la marca di cioccolato speriamo tra virgolette che fosse semplicemente cioccolato artigianale e quindi non tanto diffuso Carolinus tu che sei uomo di mondo che vivi a Milano la New York d'Italia quando si dice finger food che cos'è il finger food? il cibo che si mangia con le dita gli stuzzichini fondamentalmente cioè quando passa un cameriere che ha lì già nel bastoneo delle tartine tu le prendi quello lì è finger food è effettivamente finger quello è finger food perché c'è il dito proprio dentro il cibo da qui scattano poi le leggende metropolitane un mio amico ha trovato questo un mio amico si dicono che allora si dice che Jeep delle Iene sì casualmente proprio a lui proprio Jeep delle Iene ha trovato una testa di vipera in una busta di pronti di sughi pronti sughi pronti no no sughi era un piatto pronto un piatto pronto sono quelli sorgelati quelli da scaldare che sono a tanti cubetti non diciamo nient'altro tutti i pronti sono già a tanti cubetti cosa ha trovato una testa una testa di vipera di serpente una roba del genere proprio lui proprio lui e guarda un po' magari ci farà prima o poi un servizio anche per le Iene ho visto la vipera io coi miei occhi mi vengono in mente non so scene anche di film per esempio The Hitcher ti ricordi una autostoppista film inquietante di qualche anno fa con Rudger Auer in cui il ragazzo perseguitato a un certo punto con una ragazza si ferma al fast food a mangiare qualcosa e tra le patatine fritte che ha nel piatto trova anche un dito di una vittima non ce l'ha nel piatto ce le ha dentro quella specie di cartoccio che ti danno nei fast food tipo quelli lì lui pesca pesca peschi tra l'altro lui ci aveva messo il ketchup quindi ha confuso ketchup con sangue una roba veramente brutta poi quello che si racconta anche su alcuni prodotti di cui non facciamo il nome che però pare abbiano un'origine un po' confusa e lì dentro ci mettono il grasso di topo lì c'è il grasso di topo lì ci tritano anche gli zoccoli dei cavalli le dicevano sempre quando erano tizio le leggende lì le leggende lì partono sarà qualcuno che controlla speriamo credo proprio di sì speriamo almeno mamma mia che paura DJ chiama Italia DJ chiama Italia DJ chiama Italia ahahahahahahha sì